Benvenuti ragazzi, con questo secondo me in cui parla ed eccoci qua con questo nuovo video Siamo qua con il secondo episodio di Don't Starve Allora, lo sto registrando il giorno dopo, sono le 2 di notte adesso, ed è il 26 Quindi oggi, in teoria, esce il video, il primo video su Don't Starve Allora, allora, spero che vada bene, perché ci tengo davvero molto, davvero, davvero, a questa serie ci tengo Perché è un gioco che mi piace davvero tanto, quindi ci tengo Allora, in questo episodio ho deciso che parlerò, non semi-toscano, però con quell'accento, quella C strana, no? Perché ho visto un video, ah sì è vero che qua c'era questa roba, è vero, è vero me Me ne sto ricordando adesso Ho visto il video, cioè, vabbè, l'avevo già visto, però comunque l'ho riguardato Di strategico Call of Duty, per chi non lo conosce, vabbè, penso che ormai lo conosciate tutti E... E tipo... Io sono identico a lui Cioè, nel senso... In teoria Per chi non lo sa, vabbè, io ho i capelli... Scusate, non lo ho, mi sto concentrando per piantare dell'erba Io in teoria ho i capelli... Cioè, in teoria, ho i capelli rossi, ma in teoria dovrebbero essere ricci Cioè, vabbè, a me il riccio non piace, quindi... Non... Mi li... Mi li stiro E... E quindi, tipo, se i capelli mi li lascio al naturale, sono uguali a quelli di strategico Call of Duty Certo, non sono toscano, anche se mi piacerebbe, perché... Mi gusta questa cosa Comunque sia Andiamo un po' qua a fare... Le nostre sporche cose Allora, dobbiamo piantare queste cose Queste cose, scusate, l'erba... No, 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 non sei pazzo L'erba... L'erba... Secca Oh Ah, è vero Perché hanno fatto... Ah, maledetto Vieni qua Vieni qua Vieni Eh, vabbè Non sono riuscito a prenderlo Mmm... Mi ero anche riguardato dei video di Duke Di Duke su Don't Starve E... Mi sono venuti in mente un po' di... Di... Per chi ricorda, comunque sia Facciamo un po' di tempo fa Allora, occupaggiamoci qua a questo Noi non l'abbiamo costruita Sì che l'abbiamo costruita La macchina della scienza E io direi di farci allora a questo punto Una corda E farci la nostra lancia tattica Eccola qua Ora abbiamo anche la lancia Ok Allora, nello scorso episodio Oh, sta già diventando notte Cassiterina Nello scorso episodio, vabbè Non avevamo fatto granché E non so cosa faremo neanche in questo episodio Ma vedremo piano piano Sicuramente dovremo esplorare Perché non abbiamo esplorato tanto Dire il vero Magari andremo a fare un salto Nel cimitero Ecco che facciamoci Un piccolo salto ma Ah, cioè ma diminuisce la sanità mentale Ah Ma pensa a te Ma a me non ci interessa Però ho paura che esca Lo sapevo, lo sapevo Ma pensa a te Oh No, 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 no Stai calmo, stai calmo Calmati T'ammazzo, eh Oddio, oddio È arrabbiato, è arrabbiatissimo Oh, l'ho ucciso L'abbiamo ucciso, raga Fantastico Aspetta A me c'avevo un ascio Un tempo Cazzo è finito Dobbiamo ricraftarci Per forza Ok Cos'è? Ah Il Oh Bello, bello Ah, dobbiamo mangiare qua Queste bacche Dobbiamo tornare al nostro accampamento Che è Qua Non vedo più dov'è Bagel e August Non so che fine ho fatto Oh Dobbiamo assolutamente Eh, non possiamo fare Per una stone Va a cagare Vabbè Allora, facciamo così Noi abbiamo De... Sì Abbiamo qua Del Fofo Che palle che non mi fa piantare vicino Ok, così almeno avremo un po' di... Cioè, dobbiamo mangiare Avremo degli alberelli che cresceranno Wilson, mangi tanto devo dire, eh Guardate che bello Con la nostra Ghirlanda Ok, perfetto Ok, perfetto Giorno Allora Oh, che è una tenda Che... Oddio Aspè Però non possiamo farcela Possiamo farcela Log sui sui Questo è il food to make food Ma cosa diavolo? Vabbè Football helmet Marble suite Tutti questi dardi Boomerang Wow Be mine E una trappola Poi abbiamo i muri qua Dobbiamo farci l'alchemic engine L'alchemic engine Che ci può servire Qua c'è il rettino Perché è anche... Cioè, utile Sì, perché dobbiamo farci No, no Voglio farmi Questo Esattamente Sì Bene Allora, facciamo anche delle trappole Però non ci abbiamo... Eh, non ci abbiamo roba Sennò facciamoci una cesta adesso In questo momento Perché sennò Ok E per fare una cesta Eccola qua La mettiamo... Dove la mettiamo? Qua No Maledetto Ok, così ci mettiamo dentro Questo Questo Ci mettiamo un po' di cacca Questo Questo qua possiamo metterlo dentro Questo possiamo metterlo dentro Questo dentro Questo dentro E questo dentro Intanto come vedete Gli alberelli stanno crescendo Quindi Funziona Guardate che cavernicolo Che è il nostro Wilson Comunque Non sono tanto stanco Quindi sono tipo mezzo attivo Nel senso che Però io non vorrei essere... Dannazione Non vorrei esserlo Così attivo Per questa serie Cioè vorrei essere Molto più rilassato Più Più shawl Insomma Però Oh 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 Interessante Qua non l'avevamo esplorato No, stiamo esplorando adesso Qua abbiamo un... Un portale Che però... Bu Io direi di provare ad attaccare Un maiale Oh 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 Figo, figo Qua abbiamo tutta della robetta Be mine Abbiamo questo e il retino Menomai che non l'ho fatto Io direi ragazzi Di provare ad attaccare Per questo cos'è? Oh Cosa fa? Cosa? Che cavolo ha fatto? Scusa Ho visto che si è mostrato tipo qualcosa qua O forse qua Ah forse ci ha sbloccato questo Sì ci ha sbloccato questo Dai che non mi interessa però Allora facciamo una cosa raga Facciamo questo Lo uccidiamo sto paretto Però non ci attacca Dai gentile Mi dispiace ma ti devo uccidere Per forza Cioè non per forza Però c'ho voglia di ucciderti No Oh 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 Muori sto gru maiale Oh maiale Dannazione quanto Sono forti Qua abbiamo una traccia Ah va bene Oh possiamo fare il fire pit Fantastico Gli alberelli qua sono cresciuti Ah cuciniamo le bacche Esattamente Cuciniamo le carote Che ne abbiamo tante Il cibo Ne abbiamo tante Tanto E direi di abbattere anche un albero Più rapido possibile Ma Ce l'avevamo E noi l'avevo vista Ne abbiamo fatte due Ma sarò stupido Abbattiti Non mi basta Devo abbattere anche te Ti prego Fai veloce Fai veloce Ah Fai veloce Va bene Torna Ah Non lo illuminava Quindi Perché voglio fare un'altra Cesta Due Sì Esattamente E la mettiamo Qua Perfetto Qua ci mettiamo Queste B-mine Che non so cosa servono Però Cioè vabbè So che serviranno Sicuramente Contro Le api però Non so Cosa facciano Allora intanto Che cuciniamo anche Vabbè Leviamo No Ma A parte che non ho visto cosa detto Però Uff Non volevo Che mi Ok Piantiamole un po' così Diciamo a cavolo Però È l'unico modo Se non me le fa piantare Allora Vediamo di nuovo qua Cosa possiamo fare Allora Il rasoio Quali luci Oh Il miner hat Interessante Pumping lantern Lantern Oddio cos'è Light pulp Boh Poi abbiamo Ah si Quello È già giorno Incredibile Dura davvero Allora Noi volevamo fare la tenda Dannazione Eh Questo ce l'abbiamo Ci manca solo la corda Oh abbiamo la barba È troppo bello Wilson con la barba Comunque Adesso ci facciamo la tenda Prendiamo questo No però se non mi ricordo male La tenda era Come se Cioè non cambiava niente Se non mi ricordo male Cioè nel senso si può dormire una sola volta Nella tenda Il che è davvero Brutta come cosa Eccola Ci si fa una corda Strutture No Era strutture Pick house No non era qua Dov'era? Era qua? No 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 Non era qua Era I'm so hungry Certo hai ragione Wilson Non c'è da mangiare Mamma mia Quanta roba Ok Ah era qua forse Può darsi Sì Ah però ci vuole L'alchemic Giant Io non l'avevo mica visto Giant ci avevo fatto caso Vabbè Nessun problema Possiamo fare la bird trap E questo può essere utile Al dire il vero Poi non capisco perché qua non Comunque facciamo una cosa ragazzi Ovvero Torcia Oddio no 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 Non volevo Non volevo che prendesse fuoco anche quella roba No No Ma sono un'idiosa No Non volevo che prendesse fuoco così Dannazione Dannazione E' un po' buio Adesso sta arrivando No aspetta Aspetta Dammi lascia Dov'è lascia Dov'è lascia Non ce l'ho Equipaggio Equipaggio Ok 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 perfetto Così almeno ci prendiamo il catch call Ok No perché sennò Pare che mi è dispiaciuto un po' bocciarli Perché Ok Perfetto Ora abbiamo 9 di catch call E Possiamo anche andare a vedere Anche se In teoria Andiamo già Oh Dove è andato Ehm Un po' troppo Oltre Però vabbè Uh possiamo fare questo Possiamo fare questo Non l'ho mai fatto tra l'altro Facciamolo Ci posso mettere questa? No Non so come funziona Però vabbè